Ciao a tutti! Oggi prepareremo i muffin colomba. Il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 00, uova, latte, aroma di mandorle, zucchero, miele, olio di semi di girasole, frutta candida o gocce di cioccolato, lievito per dolci, scorza di arancia e limone e per decorare mandorle e granella di zucchero. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e la scorza di arancia e di limone. Li facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. Unire sul fondo del boccale con la spadola. Aggiungiamo il latte L'olio di semi di girasole Le uova L'aroma di mandorle Ed azioniamo il bimbi Per 20 secondi A velocità 5 Aggiungiamo la farina Aggiungiamo la farina Il lievito E facciamo amalgamare Per 50 secondi A velocità 5 Il composto è quasi pronto Adesso aggiungeremo le gocce di cioccolato E qualche candito E amalgamiamo delicatamente con la spatola Trasferiamolo nei pirottini per muffin Cospargere con granella di zucchero E le mandorle Cuocere in forno Preriscaldato statico A 180 gradi Per 25-30 minuti circa I muffin sono cotti Lasciamoli intiepidire Prima di servire Muffin colomba Grazie E alla prossima ricetta Grazie